9 dicembre ore 12 buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione di tv 2000. In primo piano la svolta nelle indagini sulla morte del piccolo Loris per l'uccisione del bimbo trovato morto nel Racusano, fermata la mamma Veronica con accuse gravissime, omicidio volontario ed occultamento di caravere. Il marito Davide, il papà di Loris, l'ha accompagnata in quest'ora ma si è anche lasciato andare dopo giorni di tensione. Se è stata lei ha detto mi crolla il mondo addosso e mi deve dire perché. Ci aggiorna Stefania Squarcia. È stata lei ed ha agito da sola, sospettata del più innaturale dei delitti. Questa l'ipotesi della procura di Ragusa sulla mamma di Loris, Veronica Panarello, è in stato di fermo con l'accusa di omicidio aggravato e occultamento del cadavere di suo figlio. Questa l'ha svolta tanto attesa dopo sei ore di interrogatorio e dieci giorni di indagini serrate, perquisizioni, dubbi atroci e sospetti sempre più pesanti. Ha trascorso la notte controllata a vista in una stanza al piano terra della procura e non ha mai dormito e sempre rimasta sveglia. Da quando è arrivata non ha detto nulla, non ha confessato. Ora è di nuovo sotto torchio, è iniziato un nuovo interrogatorio che sta proseguendo e si attende a momenti la convalida dell'arresto da parte del GIP. Tutto ha avuto inizio alle 17.20 di ieri, quando gli agenti sono andati nella casa di via Garibaldi per prelevarla davanti a tutto il paese e portarla nell'ufficio del procuratore capo Carmelo Petralia, che l'ha ascoltata a lungo. Contro di lei gravi indizi di colpevolezza, tante le contraddizioni. Chi ha ucciso il piccolo Loris ha commesso più di un errore, lasciando dietro di sé tracce telefonate e conversazioni che lasciano gli inquirenti senza dubbi. La ricostruzione che la madre ha fatto dei suoi spostamenti quel sabato maledetto del 29 novembre scorso è smentita da nuovi filmati delle videocamere di sorveglianza, 47, sparse per Santa Croce e Camerina. Nessuna nel tragetto da casa a scuola ha ripreso la macchina della donna, che appare invece alle 9.30 e sosta per sei minuti a 50 metri dal canalone in cui il suo bambino ha finito di vivere. Perché non ne ha mai parlato agli inquirenti? Perché ha consegnato alle maestre le fascette simili a quelle usate per strangolare Loris che le insegnanti sconcertate dicono di non avere mai richiesto o usato per progetti scolastici. Un elicottero ieri mattina si è alzato in volo sulle campagne dell'Aracusano nei pressi del Canneto dove è stato trovato il corpo del bambino. Forse in cerca dello zainetto di Loris, blu con le spalline gialle, mai ritrovato. Treni, aerei, autobus bloccati, temuto si avvicina, un nuovo venerdì nero coinvolte tutte le categorie dei lavoratori. La conferenza stampa di CGL Will oggi è a Roma per spiegare le ragioni dello sciopero nazionale del 12 dicembre prossimo. Allora colleghiamoci subito con il nostro Giuseppe Caporasso che si trova proprio nella sede della Will. Buongiorno Giuseppe. Sì, siamo ancora qui alla Will dove è in corso ancora la conferenza stampa dei leader della CGL, Susanna Camusso e della Will Carmelo Barbagallo. Stanno discutendo con i giornalisti, è in corso proprio in questo momento la conferenza stampa. Al mio fianco c'è il segretario organizzativo della Will, Pierpaolo Bombardieri, perché si parla di questo sciopero, lo sciopero di venerdì che bloccherà di fatto il paese. Allora le chiedo, le ragioni sono sostanzialmente immutate rispetto a quando avete deciso lo sciopero? Le ragioni sono assolutamente mutate perché mi pare che i problemi che in qualche modo CGL e Will pongono sul tappeto non sono risolti. Il contratto degli statali è ancora non rinnovato, gli 80 euro sono soltanto dati ai lavoratori dipendenti e non ai pensionati. C'è una situazione di crisi diffusa alla quale questo governo non riesce a dare risposte, anzi dà delle risposte negative applicando e approvando con decreti e interventi alla Camera che in qualche modo riducono le tutele ai diritti dei lavoratori. Da un punto di vista organizzativo in che modo bloccherete il paese, soprattutto per quanto riguarda il trasporto aereo e ferroviario venerdì prossimo? Ci ramarichiamo ovviamente per i cittadini ma sarà una bella giornata, abbiamo previsto 54 piazze, quindi 54 manifestazioni su tutto il territorio nazionale, si fermeranno il trasporto aereo, si fermeranno i treni, si fermerà il trasporto pubblico locale. Con l'unica eccezione di Milano gli orari saranno sostanzialmente dalle 9 alle 17 del pomeriggio. Per quanto riguarda invece la CISL che manca in questa mobilitazione, è possibile riprendere una sorta di dialogo per marciare uniti nei confronti del governo o comunque nei confronti della controparte dei datori di lavoro? Noi crediamo di sì, intanto sullo sciopero generale del pubblico impiego anche loro hanno protestato, hanno fatto una serie di iniziative in giro per il paese contro la situazione che si è determinata in Italia e con delle proposte io credo che sicuramente fra un po' di tempo ci troveremo in modo unitario. Grazie a Pierpaolo Bombardieri, segretario organizzativo della UIL, per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie, grazie a Giuseppe Caporaso. Noi torniamo all'inchiesta mafia capitale, mentre si allarga il numero di indagati si riparte oggi con gli ultimi interrogatori di garanzia. Il sindaco Marino incontrerà intanto il ministro dell'interno Alfano ed il prefetto Pecoraro sul tema delle ispezioni. Ieri Papa Francesco ha pregato per Roma e per l'Italia. Nicola Ferrante. Ci stiamo comprando mezza prefettura di Roma. Continuano a emergere nuovi inquietanti dettagli sugli affari della mala romana svelando l'intricata e fittissima rete di contatti su cui si regge mafia capitale. Dalla prefettura al colle con l'intento di agevolare la banda, insinuandosi nella pubblica amministrazione, come l'appalto per la gestione del centro per richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto, una pentola d'oro da 20 milioni di euro. Quando Massimo Carminati parla con Salvatore Buzzi della cooperativa 29 giugno, le intercettazioni ambientali svelano allora come arginare quel grosso problema che blocca la firma su uno dei tanti contratti sporchi bloccato a causa di una condanna che pende su uno dei contraenti. E qui la frase eloquente di Buzzi, ci stiamo a comprare mezza prefettura, in carcere ormai da otto giorni carminati e ercecato come soprannominato, si mostra silenzioso e sprezzante. Un giorno ci saremmo dovuti incontrare, dottore avrebbe detto Gelido, il PM che lo ha incontrato dopo l'arresto, strettissimo l'isolamento a cui è sottoposto, lui la cui corte era invece sempre affollata di fiancheggiatori, non ultimi alcuni militanti del gruppo ultraromanista di destra opposta fazione, il cui quartier generale e lo stadio olimpico è tutto ciò che gravita nella galassia dei cosiddetti curvaroli, stando a ciò che emerge dalle 80.000 pagine di indagini. L'inchiesta riprende oggi con gli ultimi interrogatori di garanzia ora in corso. Il sindaco Marino incontrerà il ministro Alfano e il prefetto Pecoraro sul tema ispettori, il commissariamento del Campidoglio si allontana, ma si avvicina all'invio di funzionari da parte del Viminale per fare pulizia, perché lo scandalo che colpisce la cupola lascia intanto il tempo a mafia capitale di riorganizzarsi. Ed intanto duro colpo all'andrangheta, ma non in Calabria. Ha sequestrati per 18 milioni di euro alla Cusca Amarando il clan Egemone per anni nella malavita organizzata nel nord-ovest del paese, con radici profonde in Piemonte, beni per 18 milioni. Nella stessa operazione arrestate 8 persone. Il patrimonio acquisito attraverso il narcotraffico era investito in attività ed imprese di costruzione e di gestione immobiliare. Tra i beni confiscati figurano abitazioni, ville e terreni in Piemonte, in Lombardia, nel Lazio e in Calabria. Formalmente erano intestitati a prestanome, ma sono riconducibili alla Cusca Amarando. E in Lombardia arrestati 5 agenti penitenziari. Si ipotizza la procurata evasione. Secondo l'accusa, i poliziotti avrebbero favorito la fuga dalla casa circondariale di Varese, il 21 febbraio del 2013, di tre detenuti romeni in cambio di denaro, permettendo che questi ricevessero in cella una lima ed un cellulare. Evasione che comunque dura poco, dato che i tre vennero intercettati ed arrestati in Svizzera e in provincia di Pavia. Il GIP ha ordinato la custodia cautelare in carcere in attesa di sviluppi nelle indagini. La pagina politica c'è l'accordo sul bilancio europeo e risorse, anche per la crescita. Lo annuncia il ministro Padoan all'Ecofin di Bruxelles. Intanto a Roma si precisa che non è prevista l'ipotesi di allargare il bonus degli 80 euro ai pensionati, sfondando il tetto del 3%. Lo sottolineano delle fonti di Palazzo Chigi. La nota è di Augusto Cantelmi. Fare chiarezza senza pietà anche all'interno del PD. Matteo Renzi fiuta i pericoli dell'inchiesta mafia capitale sulle conseguenze che potrebbe avere sul Partito Democratico. Difende il ministro del lavoro Poletti, ritratto in una foto di quattro anni fa con alcuni indagati, ma chiede un processo veloce e giusto. Ma non lasceremo, sottolinea il premier, la capitale in mano ai ladri. Le spine romane giungono in un momento particolarmente complicato per la vita del governo alle prese con il braccio di ferro con Bruxelles sui conti pubblici. La commissione chiede un aggiustamento di 6 miliardi. Una richiesta che giunge dopo un durissimo scontro tra Roma e Berlino, conclusosi poi con una tregua sancita da una telefonata di chiarimento tra Angela Merkel e Matteo Renzi. Ma l'attento controllo di Bruxelles e Berlino costringe il premier alla massima prudenza ed ad accantonare la tentazione per rianimare l'economia del bel paese di concedere gli 80 euro anche ai pensionati. Conti dunque che non tornano. Il ministro dell'economia Padovan tuttavia al termine della riunione dell'Ecofin annuncia l'accordo all'interno dell'Unione per il pagamento delle fatture sospese per servizi già erogati pari ad oltre 26 miliardi di euro. Un piccolo segnale che tuttavia non distoglie il severo sguardo della commissione sulle prossime mosse del governo a cominciare dai decreti attuativi della riforma del lavoro che il governo si appresta a scrivere. E veniamo alla riforma del lavoro di cui si stanno appunto scrivendo i decreti attuativi che definiranno in concreto modalità e costi del licenziamento. Secondo uno studio della Willa molte imprese converrebbe assumere e licenziare. Ci spiega come e perché Giorgio Schiavone. Jobs Act e legge di stabilità potrebbero creare un meccanismo mostruoso per il quale le aziende avrebbero un vantaggio economico a licenziare prima che scatti la stabilizzazione programmata dal contratto a tutele crescenti. Secondo i calcoli della Willa, un'azienda che nel 2015 assume un lavoratore e lo licenzia a fine anno potrà beneficiare di un saldo positivo di quasi 4.000 euro che schizzerebbero oltre 13.000 se venisse invece licenziato dopo tre anni. Esattamente il contrario dello stimolo all'occupazione stabile promessa dal Jobs Act. E l'effetto matematico e paradossale degli sconti su IRAP e contributi previdenziali inseriti nella legge di stabilità da una parte e degli indennizi previsti dal Jobs Act per chi assume a tempo indeterminato con il nuovo contratto a tutele crescenti. Tutto si gioca, dice il sindacato, sulla differenza tra gli ingenti incentivi di cui beneficia l'azienda e il risibile indennizzo che spetta al lavoratore in caso di licenziamento che si aggirebbe su una mensilità e mezza per ogni anno lavorato. Per uno stipendio medio di 22.000 euro lordi all'anno, circa 1.700 al mese, la decontribuzione sgraverebbe l'azienda di circa 6.390 euro. Se il lavoratore venisse licenziato a fine anno, l'indennizzo e perciò il costo per l'azienda si aggirebbe intorno ai 2.550 euro lordi. L'impresa, dunque, ci guadagnerebbe 3.840 euro. Un vantaggio che aumenterebbe, stima ancora la Will, se il lavoratore, sempre assunto il primo gennaio 2015, venisse invece licenziato nel corso del terzo anno. I benefici fiscali per l'azienda, su un reddito di 22.000 euro, ammonterebbero circa 20.790 euro, mentre il costo dell'indennizzo sarebbe solo di 7.600 euro lordi, con un guadagno per l'azienda di 13.190 euro. Ed ora ci spostiamo a Milano per parlarvi di borse, ma non solo. Ci colleghiamo con il nostro Marco Bergamaschi. Buongiorno, Marco. Buongiorno, buongiorno. Partiamo appunto con le notizie di Borsa, con Piazza Affari, che dopo l'apertura in ribasso, ricordiamo che poco dopo l'avvio, segnava meno 1,5%. Ha ridotto questo calo iniziale con il Futsimib, che ora si aggira intorno al meno 1%. Riducono le perdite rispetto agli avvio, anche i titoli bancari, da segnalare lo sprint solitario di Monte dei Paschi di Siena, e i petroliferi che risentono del prezzo del greggio, che è i minimi dal 2009. Lo stesso crollo dei prezzi petroliferi sta infliggendo un duro colpo all'economia della Russia, tanto che la Banca Mondiale ha tagliato le proprie stime di crescita per Mosca, portandole al meno 0,7% per il 2015, mentre sempre gli effetti del depreciamento del greggio hanno costretto la Banca Centrale Russa a spendere qualcosa come 4,5 miliardi di dollari la scorsa settimana, proprio per sostenere il rubro. In Europa, con le piazze che sono per lo più in territorio negativo, spicca il forte calo di Atene, che intorno alle 10 di stamane aveva toccato meno 6%, mentre invece i rendimenti dei titoli di Stato greci sono in deciso rialzo. Il tutto dopo che il governo ha anticipato di due mesi il voto per il Presidente. E infine, sul fronte energetico, una buona notizia in prospettiva anche per l'Europa. L'Ucraina ha cominciato a ricevere le prime forniture di gas russo dalla loro interruzione che risale a giugno. A renderlo noto l'operatore pubblico dei gasdotti ucraini. Il 30 ottobre, Ucraina, Russia e Unione Europea, lo ricordiamo, avevano raggiunto un'intesa per la ripresa delle forniture di gas a Kiev da parte della russa Gazprom fino a marzo 2015. L'intesa prevede parte del saldo del debito ucraino e il prepagamento delle forniture per l'inverno 2014-2015. Da Milano è tutto, vi restituisco la linea. Grazie, grazie a Marco Bergamaschi. Aprite le porte alla consolazione del Signore. Questa mattina Papa Francesco ha preso spunto nella sua omelia a Casa Santa Marta dalle parole del profeta Isaia sulle sofferenze di Israele dopo l'esilio a Babilonia. Il Papa ha ribadito che la gioia della Chiesa è essere madre e andare a cercare le pecorelle smarrite. Alla Chiesa ha aggiunto non serve avere un organigramma perfetto se poi è triste e chiusa se non è madre. Di qui l'invito ad essere cristiani gioiosi con la consolazione della tenerezza di Gesù. Tutte le parole del Papa naturalmente nel diario di Papa Francesco questo pomeriggio alle 17.30. Con questo è veramente tutto. Grazie per averci seguito. L'appuntamento con l'informazione torna alle 18.30. Grazie per l'attenzione. Buona giornata. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione. Grazie.